Sono arrivati nella notte a Montecatini per non destare troppo clamore mediatico, vista la grande attenzione a cui sono stati sottoposti, soprattutto nelle ultime settimane, gli extracomunitari cittadini africani, ospiti della parrocchia di Vicofaro, dopo i casi di positività al covid di alcuni di loro. Sono stati alloggiati in due alberghi della città. Ad oggi, i migranti arrivati da Vicofaro, ospiti a Montecatini, sono 82, sono suddivisi in due alberghi, all'hotel Terme Pellegrini sono 14 positivi in isolamento, all'hotel Presidente sono 68 non positivi in isolamento. Il timore che serpeggia in città è che il centro di Montecatini si trasformi in una nuova Vicofaro e che questi migranti restino nelle stesse strutture alberghiere cittadine anche una volta terminato il loro isolamento. Il fatto che rimangano al termine della quarantena non è possibile e non deve essere possibile e io su questo farò le barricate. Qui non è uno SPRAR, non è un centro da Montecatini. Questi alberghi non sono finalizzati all'accoglienza dei rifugiati e dei migranti senza entrare nel giudizio di merito. Gli alberghi sanitari sono frutto di un bando pubblicato dalla regione toscana destinati ad ospitare persone positive al virus. L'obiettivo è quello di alleggerire la pressione sugli ospedali e su altre strutture sanitarie. In totale le strutture alberghiere e sanitarie a Montecatini sono sette ma ben presto andranno a un totale di dodici. Questa cosa passa sopra la testa dei sindaci. I sindaci e gli amministratori locali, le amministrazioni comunali, che sia Montecatini, che sia Firenze, che sia Pistoia, non hanno nessuna voce in capitolo su questo. C'è un'emergenza sanitaria. Montecatini, dice Baroncini, è una città turistica. Tanti alberghi e grande disponibilità ma per lo più sono concentrati nelle zone residenziali. Chiesi di dare confermezza, priorità a strutture collocate magari in ambito periferico. Lo chiesi già allora, l'ho ribadito adesso. Non trovo giusto mettersi contro impedire un aiuto al sistema sanitario in un momento di emergenza mondiale e non di meno italiana, toscana e locale. Un altro aspetto è quello dei controlli nei confronti degli stessi alberghi e poi di porre un limite all'accoglienza. Ci saranno altri bandi, dice il primo cittadino, e la necessità di ulteriori posti letto. Ma non è che possano venire tutti a Montecatini. Pur Montecatini, avendo fatto la sua parte importante nell'aiutare appunto la sanità toscana, e ribadisco, secondo me abbiamo fatto bene a farlo, anche se si doveva probabilmente ascoltare di più la mia richiesta di concentrarsi su strutture periferiche.